La notte del 16 settembre 1976 a Buenos Aires, sei studenti vennero strappati dai loro letti, vendati e portati via. Fu un'esplosione di terrore che sconvolse la nazione. La notte delle matite spezzate. Erano ragazzi innocenti alla scoperta del loro primo amore. Erano ragazzi che credevano di riuscire a cambiare il mondo. La notte delle matite spezzate. Dio fammi morire, ti prego fammi morire. Basta per favore Maria Cara, basta. Erano abbandonati a loro stessi. Dal famoso autore argentino Hector Olivera, un nuovo film sconvolgente, che ha trovato consensi unanimi da parte del pubblico e della critica. Il tragico ritratto di una nazione pervasa dal terrore e di un gruppo di ragazzi che lottano per la sopravvivenza. La notte delle matite spezzate. Niente è più sconvolgente della realtà. La notte delle matite spezzate. La notte delle matite spezzate. La notte delle matite spezzate. La notte delle matite spezzate.